Nuovo acquisto per la New Image Jarre che in vista del girone di ritorno rafforza l'attacco con l'ingresso nella rosa di Maurizio Lopes, volto noto nel panorama vollistico nazionale presentato ieri alla stampa. Lopes, classe 74, con una lunga carriera alle spalle in Serie A, dopo un periodo di fermo di due anni, entra a far parte della squadra di Mr. Luca Palma, con un unico obiettivo, la promozione in Serie B. Un sogno che potrebbe diventare realtà per la New Image del presidente Antonello Sorbello, che dopo una partenza in salita ha chiuso il girone di andata al terzo posto, ad un punto dall'Aquila Bronte e a quattro dalla capolista Floridia. A questo punto abbiamo detto, visto che siamo lì, cerchiamo magari di tassellare la squadra con un atleta di un certo spessore. Siccome noi già da quattro anni che abbiamo con il settore giovanile l'ex atleta di Serie A Maurizio Lobis, penso che lo conoscono tutti, 12 anni nei maggiori campi di Serie A, poi ha smesso due anni fa per l'età, ma quest'anno l'abbiamo voluto tirare in ballo per darci una grande mano e un grande sforzo per arrivare alla conquista della Serie B. In realtà l'Opis, che debutterà sabato prossimo al Palaiungo in un match di cartello contro l'imbattuta capolista Floridia, non è nuovo agli ambienti della New Image. Lo schiacciatore infatti si occupa già da tempo del settore giovanile della squadra. Niente, qui sono praticamente di casa, perché ho allenato già in passato qui, adesso continuo ad allenare i settori giovanili e adesso do una mano a Luca Palma. Scusate l'affanno che stavo facendo allenamento, Luca Palma e i suoi ragazzi con la Serie C, sperando di raggiungere questa promozione che tutti meritano. Meritiamo.